Singapore Via Sto a meno 10 No aspetta 49, 36 Sto a meno Sto a meno 13 da te No, ok E a meno 23 da emita Poco più over No, è impossibile Io lo lascio bilanciato Comunque Secondo me va la scelta tua Ciò che scegli tu Mette a me Boh, sembra strano Eh, l'ho messo tutte le volte Dura Oh no, di notte Questa Mi è un po' giocato E' un nuovo lontano Questa E' un nuovo lontano Questa Qualifica Che gara non piove In qualifica in gara non piove Ok Ora sto Nuvoloso fino a 15 Fino a 20 Sì 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 La pista non è affollata La pista non è affollata Sempre è momento opportuno per fare qualche giro 45 e 90 Sono a posto Aspetta un attimo che devo andare a prendere il telefono Non riesco a fare il giro L'artenza Ora si fanno prima le prove E tu ti alleni Io esco con le gialle Le gialle Le gomme gialle Un altro è pronto Chi è pronto? Sono io No, quello è Claudio Stai a box? No, ora sono uscito Se non li facevamo vedere quando usciva uno Ah no, vabbè, lo vedremo quando rientriamo Più semplice Ah, devo ricordare la curva Mi sembra che adesso sto No Sì Perché? Questa curva è bruttissima Qua è? Questa qua Se non freni nel punto giusto Vai a sbattere Io non l'ho mai seguita Lei è niente Che di bella tu Dicevo Buono, buono Allora esco pure io Io le usavo Io andavo un po' soltanto Quando Mi dice di premare Cerca di mantenere un passo gara prudente Per i primi due giri Ma che strano di giorno Ah, questo è giorno Sì Un'ora al giorno Però sarà di nuovo Ah, non ti resta Due Due Queste sono ancora le prove Per imparare la vista Dopo dobbiamo fare le qualifiche E se Ho tirato un bel acqua Sai quante volte è capitato Mi sto mezz'ora a guardare la cloud Sono mischiando pure io Al tornantone a sinistra Là è meglio Farlo piano 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 Cioè Prepararselo piano piano Rallenti un po' di più Così hai più Manovrabilità Diciamo 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 Non so quanta benzina Non so quanta benzina Ma sta poco Anno a tempo Cosa c'è scelta Ma se sbagli sono cavoli E' mona E' mona Tu lo conosci mona Non la città Conoci la pista di mona Bella Bella Mirfo Non so come si fa Eh Però pure claudio È difficilissima È impossibile Poi bisogna Ampia Difficile Difficile Questa è un'altra Mirfo Questa è un'altra Ma poi quando Questa è un'altra Il box Quindi farla così Sì La farla tutta Ma il prossimo giro Io entro adesso Perché Ho rotto l'ala Però non si è giusta Poi sono uscito pure io Con le gialle Mi sembrano Gomme inutili Io uso le gomme Super dure Che portiamo Per Per girare Il più possibile Con più Durata Imparare la pista Capito Ah qui è 60 all'ora Adesso Adesso Giro più veloce Di lui Stato Cioè Giro più veloce Di lui Semi Allora Fatti più veloce Eh Quindi Il giocato Di stato Soltanto tu Qui è Claudio Veri Cioè Veri Reali E gli altri So Il computer No Dalle 2 alle 8 Due ore Ho due box Io esco Ah Stai rientrando tu Migliora sto Scendo Cloud No Stai Stando Prima Non so Su youtube Potete vedere Tu che rientri Che forti L'hanno messo Su Ora sto uscendo Io Se riesce A inquadrarmi Dove Di uscire Cosa c'è Questa è Claudio E' Volatilizzato Si'è passato Come un'ombra Vedi davanti C'ho le rosse Qualc'altro giro Lo faccio Così Nel Tifor Ma Dessa Quanto C'è Quanto C'è C'è Un'ombra Blu Non so Zitti Una Quaddemicia venti 11 14 giri e se ma mica la gara ma vado così un altro po' forza il colombo e poi metto il gioco per farmi rinfrescare si ma loro c'hanno la tuta poi a singapore fa sempre caldo non ho visto nemmeno quanti gradi sta ricordami quando c'è di nuovo il computer che te lo dico quel motore riscalda a 115 gradi il motore riscalda a 115 gradi non è uno scherzo però hai visto il consumo delle gomme qua qua? com'è il basso? altissimo no nelle prove nelle prove è altissimo il consumo delle gomme pirco è italiano sto parlando che le gomme si consumano assai prima quando ho cambiato le gomme ma stava scritto che era consumata al 7% nooo consumato al 7% ho sopravvissuto ne hai tanti davanti eh? si poi provo di sorpassi no no li lascio stare ma perchè ho già buttato questo giro che cosa devo fare? mhm? voglio schiacciare qualcuno schiacciare qualcuno che è uno sta qua beh mentre faccio il sorpasso pum beh ti danno la penalità no no scusa togli che spazio i cordoli la cura guarda cos'è bianca rossa ci sono ma i i i i i i i i e i Abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri Tanto a sinistra Sta scritto Gioco messo in pausa No, per registrazione messo in pausa Quindi, poco tempo La registrazione è ripresa Eh sì, perché tu puoi registrare 15 minuti per farlo E' sempre più bassa E' sempre più bassa Un secondo migliorato Io ho 11 e mezzo 11 secondi migliorato Sì Se non mi schianto 12 Ultima curva Ma che stai in mezzo Non sarà nei box A qualche parte Ciao Gli ha fatto il giro più veloce Quante ha a me? 1,45 e 4 Con che gomme? Rosse 44 e 2 Un secondo e 3 Mazzano Un secondo e 3 Perca parete Guarda 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 Un punto pericoloso per la gara è quando passi in quel tunnel là di dietro Sì La prima curva a sinistra è pericoloso Ah so finito in un Aspetta provo a fare quella cosa con la pausa vediamo se non mi squalifica Eh che cazzo fa va di retromarcia Ecco Poteva fare molto più semplice Poteva fare vabbè ce l'ha fatta Ma tu manca Ti dico subito 12 e 31 Ok sto rientrando eh puoi vedere io che rientro Claudio sta rientrando adesso guarda escono quelli di Claudio Lo prendono Io ti vedo solo la punta del muso Ammazza è schifo Non l'ha detto? Sì? Non l'ha detto sta polta? Ammazza che schifo Tu? Ammazza clan un secondo da voi Cacchia Ma come stiamo messi fammi vedere Nel primo settore vabbè uguale Nel secondo un secondo quasi Nel secondo un secondo C'abbiamo un terzo qua Un decimo abbondante nel primo Otto decimi nel secondo Nel nostro miglior giro finora è 1 44,2 Un 4 decimi Secondo Vabbè andiamo con la viola Questa volta mi sono scordato di fare quella simulazione di gara che era importante Vediamo che a Monza mi è servito C'avevo l'esperienza del Serbatoio pieno Esco Siamo tutti pronti Ok si parte stanza aderenza La vettura non riesce a inclinarsi Sulla sua probabilità a causa di sospensione anteriori Trucco rigide Vedete quanti gradi sta? Eh? 26 gradi sta Io non sto col ventilatore Guardiamo Figurati l'urro Ehi Dica un giorno Non si è mai fatto acqua E' attaccato E' Vabbè ci accendi Sempre fa caldo Siamo pronti Devo fare un attacco bruttissimo Qua Qua Io attacco la 6 7 Oh no Sì Tutti i bassi sono Sì Sì Beh Sono grosse come Dice Queste sono le gomme più veloce Ehm Sono più morbide Quindi attacca le più Ora Sì Asfato Ora si consumano di più Dai più veloce Subito E poi Più lento Prima Ora si consumano Un po' Che c'è? Abbiamo calcolato A sufficienza Per altri 4G Chi? No Mi ha messo il salto Che dovevano andare le valchie Al centro Cosa fa? Due vanno al centro E gli altri vanno tutti al lato Non Uno 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 vara Marina Grazie a tutti. 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 1,44 e 4 tu hai fatto, io 1,43 e 1. Grazie a tutti. 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 Un altro invito. Un altro invito. non è fluido. Non è fluido. la playstation. è almeno a... è almeno a... è almeno a 150, credo. quindi... 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 non dovrebbe essere... è alla playstation che si vede a scatti. la playstation che si vede a scatti. Ah... E ora vediamo. E ora vediamo... non bloccando... giravo ma andava dritto. quindi... non lo so... forse devo mettere il peso un po' più avanti ancora... mi pare che sto a 5... a 6... a 7... io lo porto a 6... 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 bene... Sospensioni anteriori... sospensioni posteriori... a barra stabilizzatrice... tutta a 11... aspetta il riguardo... 11... 11... 11... 2... 5... a 5... No... così ti... ti rimbalza troppo... e stai in un circuito cittadino... devi stare un po' più morbido... io sto quasi... sto praticamente neutrali... tutto a 6... solo l'altezza anteriori... l'ho messo a 5... per un vizio mio... di mettere la macchina più puntata sul davanti... e che devo mettere? 9... 9... 9... 9... 4... 5... 5... oddio... hai fatto... hai fatto un giro che è un secondo più lento... ehm... rimani comunque bilanciato e abbassati di qualche punto... si... bravo... come hai detto... eh... lascio questa idea... la campanatura... eh... tutto al 2... tutto un estremo e tutto l'altro... i primi due... tutta a destra e tutta a sinistra... i primi due... no... io ce l'ho a meno 2,80 e meno 1,40... eh... 0,12 e 0,32... vabbè dai... andiamo così... ancora... terzo invito da questo qua... non bloccalo... prova al telefono... dai... chiudi... che... ce l'hai a fare? almeno... almeno sentiamo uscita... no... eh... eh... ciao Mirko... ora mi sentirà tra otto secondi... ciao... ciao... eh... ah... sono... 200 metri dietro di te... dei box... si... cosa non usciamo... tutto sto macello che sta fuori... ecco... uscita dei box... è un po'... balorda... eh... infatti io ho fatto un incidente... ma... ho fatto un salto... no... un salto... hai volato... lo devo salvare... no... ho... sono andato a sbattere... poi da fermo la macchina... boom... ho fatto un salto... vabbè... dire... boh... vabbiamo! tu è la prima lettera... eh... mi devo muovere qua... NON PIU!!! non più... però... non più... La curva che sto facendo adesso intendo Deve bisogna frenare a metà tra i 150 e i 100 Nei primi giri di gara Ah ho messo pausa Fa lui senza ala qua C'è un secondo ospite qua Deve bisogna frenare a metà tra i 150 e i 100 Nei primi giri di gara E' un secondo ospite qua Abbassano un po' Sì, non si sente due volte Non assai Non sta che non entra di nuovo nella curva Non ho girato proprio Tutto Ah, più o meno 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 Grazie Ah, più o meno Smazza Avevamo fatto 1.42.0 fuori Qua siamo 1.42.7 Grave E adesso tuo fratello ti vedrà Quando comincio ad aprire e chiudere il DRS Ah, stai subito dietro Subito davanti a te Ah, stai con La pausa Sì, ehm, faccio una spiegola Ti sto seguendo Ah, lì di Claudio sta dietro di me No, ma ora vedrai tu che mi sorpassi Sì, ehm, faccio una spiegola Sì, ehm, faccio una spiegola Ora che sto in pausa Ora che sto in pausa, sì Quindi se No, che si mette così Sì, sto in pausa Può salirmi sopra Se non sto in pausa Sì Beh, stai nelle ultime 3 curve Sì, sì Pena se farò sto tunnel Siamo a corto di carburante Devi tornare ai box Entro un paio di giri Ci resta abbastanza carburante Per un solo giro Sì Non ho capito, ripeti Nooo Fatta malissimo Fatta malissimo Non sopporto almeno Io sono appena rientrato in box Lo faccio proprio per vedere se riesco a fare meglio con la curve Sì sì Sperando di non rompere le ruote Viola Ho fatto viola nel primo settore Ora ti controllo Mancano sette minuti Mirko ora puoi vedere Giuseppe dalle telecamere come in tv Con te stavo parlando? Eh? Con te stavo parlando? Eh l'ho detto alza un po' Non ho detto così tanto Qualcuno mi ha lasciato un commento Non è stata la notizia? No Mandate il link a Manuela Non so se è entrata una Un decimo da te Secondo Ah Mirko ha scritto ciao Ah tu hai scritto ciao Mirko Sì E ciao Ciao E' un po' di buccia. Ultra la pasta. Alla fine della prima manche. Ascolare la pasta, forse. Primo. 49 millesimi. C'è un punto che tipo c'avevo otto decimi migliore. E ho fatto sta curva e sono arrivato a negativo. Stai rientrando in box eh? Sì sì sì, ho messo pure la pausa. Bottas esce. Finora il nostro miglior giro è 1.42,7. In teoria dovrebbero uscire un po' tutti eh? Ci sono solo Bottas Ed Ericsson. Poi Max Nussen e Palmer non hanno giro. Ma Bottas che appunto sta? Quinto, sesto, boh. Quarto, quinto, quinto. Quinto, quinto, quinto. Quinto è Bottas. Ehm, ha un secondo e otto da te. No. Tu hai fatto il migliore intertempo nel primo e nel terzo mi so. E io nel secondo. Nel secondo ti frego di tre decimi. Nel primo e nel terzo mi frego di tre decimi. Poi ci sta la curva sinistra con la chicane e il tornantone e il rettilineo. Dici che me lo fanno a fare a retromarcia. Che cosa? O mi squalificano. Ti squalificano? Ma che cosa? No, avevo sbagliato l'ingresso ai box. Credi quattordici su venti ora ci sono praticamente tutti in pista. No, l'ingresso ai box lo faccio... Solo i primi otto sono ai box ancora. Lo faccio malandrino. Mi giro l'entrata ai box. Vado sulla strada normale e poi salto sopra i cordori. Ah, per rientrare? Sì. No, un tempo ho scansato il... Il coso là in mezzo. Se no lo stavo per sprendere. Mamma mia. La curva che stai facendo adesso... Non penso in una canale. Beh. Non questa a destra a sinistra. Quella di prima. Ah. Prima era una chicane a tre curve. Ah. Era sinistra a destra a sinistra tutto insieme. Solo che siccome troppe macchine prendevano il volo... L'hanno sostituita con questa curva a sinistra. Sul... Sul canale di Formula 1 hanno pubblicato un video su questa curva. Sulla storia di questa curva. Che dal 2008 fino al 2012 è rimasta. Mh. Avevano soltanto abbassato un po' i cordoli, ma la gente ci saltava comunque. E andava a finire dritta sul muro. Farò così. Ma non ti ha dato la penalità? No. Ah. Non so se in gara poi me la darà. Nemmeno non ha visto niente. In teoria non te lo dà. Ah. Perché ti ho visto entrare molto veloce oltre il limite di velocità. Se l'avessi fatto io... No. Come arrivo al punto che devo rallentare mi inchioda bruttissimo. Bottas ci ha fregato di 6 decimi. Io sono secondo. Ah. Molto male. Molto male. E' come se mi sento di nuovo al massimo della prestazione. E sto a 7 decimi dal mio miglior tempo. E' 6 decimi da Bottas. Mannaggia la miseria. Bottas da qui intervato... Ah. Non si. No. Prendiamo di supersoft. No. 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 Vabbè. Sì, consumo meno gomme. Io a 14 giri ho fatto l'avoli. 5 e mezzo, metto 10 kg. Pure io sto a 5 e mezzo. No, prima ce l'avevo a 25 kg. Eh, io no, ce l'avevo a 10 kg. Quindi in teoria stai meglio, sicuro. Occhio a non consumare assai nel giro di lancio e nel giro di rientro. Cerchiamo di fare il giro lanciato nel... Nel secondo, così rientriamo subito. No, metto subito pausa. Così va a zero. Ma sta addorbendo, mo? Chi? Jenna? Eh. No, 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 mi ci sono scritto. Sta molto meglio rispetto a Iri, almeno per quanto riguarda... Il sonno. Ah. Eh vabbè, sì, è normale. Normalissimo. Soprattutto dopo che ti fai la totale. Trocchi. Allora, Mirko, devo cercare di fare... Un giro solo. Ora, quando parto... Devo fare solo un giro. Prendo il tempo ed entro nel box. Perché devo partire con queste gomme, pure. Mmh. Questo è proprio, capito? Quindi se la consumo assai... Può in gara fatto con le gomme consumate. Quindi devo... Quindi devo risparmiare. Perfetto, io metto max. Sì, per forza. 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 Grazie a tutti. 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 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tutto due? Ora mi metto in coda. Mirko mi metterà in coda. Tu sei... No, no, mi si è tolto. No, dietro sta Claudio. Guarda, mi sta fermo ad aspettare. Ma che numero c'hai tu? 25. In onore del 25. In onore del 25esimo compleanno che farò quest'anno. In onore. In onore. Era libero l'ho preso. che devo fare? Che devo fare? Che devo fare? Il 10. In onore di tutti i mesi, capito? Di tutti i mesi che farà il compleanno. Vabbè, 25 è un compleanno diverso, capito? Ah, tu dici. Bottas che sta girando adesso, eh? Io quasi quasi farei ancora. Quanto ci abbiamo? 7 minuti? Io mi metto di nuovo carburante al massimo e le gomme... Eh, mi sa che non posso utilizzarle come super soft vecchie. 28.4, due decimi da te. 39.9, il fucsia. Ma cosa se tu hai fatto 39.5? Ma c'hai chiodo? Perché hanno dato il fucsia a Bottas? Scusa. Ma vabbè. Sì, ora il nostro miglior giro è un minuto, 42,3. Io ho fatto 39.8. Boh. Allora, 39. A me sta solo fucsia a me nel secondo, più il miglior tempo. Bottas dove sta? Scusa, non c'è Bottas. Sotto sotto. Perché sta girando? Sì. Ecco, fate il giro. Primo. E sta... Non ho dato fucsia al secondo. Sta dietro a massa nel traffico. Oh, tutta e due le Mercedes... A me Bottas risulta in quinta posizione. Che ha fatto 1,44. Sì, sì, sì. Ah, e infatti non è primo. Scusa. Primo in classifica, mannaggia. Penso che arriveremo alla ventesima gara e forse... sta a quinto. Quello è il primo in classifica. Nella classifica non di questa gara, di tutti. Secondo più veloce. Vabbè, stanno facendo sia Hamilton che Bottas i giri con le Ultra Soft. Noi siamo gli unici, oltre a Verstappen, sulle Super Soft. Sì. Comunque, 1,42.3 mi è di conforto con le Super Soft. Va, si dovrebbe migliorare... Quante? Quattro decimi? Potrei scendere sotto l'1,42. Io ho 43,9. Mi sono andato a sbattere, però. Questi devono migliorare tutti nell'ultimo run. Guarda, stanno tutti... tra un secondo e mezzo e due secondi e sei? Sì. Penso che sì. Il massimo lo portiamo a casa. Vuoi fare che monti le Ultra Soft ed esci a due minuti e mezzo dalla fine? Perché? Così se poi devi fare il giro lo inizi. Se vedo che la classifica rimane così... Ma no, stai a terza, un po' sì. Chi cacchio mi deve superare? No, attento, attento. Sei in un secondo, tu, dalla undicesima posizione. Alla fine ti ricordi che tutti fanno il giro? Eh dai, andiamo avanti. Tieni di pronto già in pista, così al massimo fai un giro lanciato proprio a tempo scaduto. Se ti dico che qua non ci stanno migliorando... O no, o nuove. Utilizza le nuove. Fai soltanto un giro di lancio, ce l'avrai poi all'1% al massimo. Te lo fai proprio piano piano. Vado con la pausa. Allora esci a 2,20. Quanto è il giro? 1,43? Sì. Esci a 2,20 o 2,15. All'ultimo levi la pausa così ti dico se lanciarti o no. Magari ti lanci, farai pure il primo settore lanciato. Poi là ti dirò veramente quando gli altri arrivano, se ti stanno fregando o no. Perché prima è un po' più difficile dirtelo. Lo vedi Hamilton sta uscendo. Che è successo? In che senso che è successo? Ho sentito un rumore di Jack staccato violentamente. Esco? Quanto manca? Aspettate una di 10 secondi. Ah sì, vai, comincia ad uscire. C'è tutta l'animazione da fare. Siamo morti. Hamilton, vabbè, sta già davanti a te. Qua si stanno lanciando già Perez e Grosjean. Vediamo un po' che stanno facendo. Perez sta nel primo settore. Adesso. 29,3. Tu hai fatto. 28. Ok, su Perez dovremmo essere tranquilli. A meno che... Dov'hai fatto l'errore tu? Più o meno, primo, secondo o terzo? Terza curva? No, la terza settore. Mi sa, ho il secondo, amico. Vabbè, comunque stanno proprio nel traffico assurdo questi qua. Roba di Perez e una Toro Rosso. Chi altro sta? Grosjean, vediamo Grosjean che sta facendo. 28,9, 40,3. Tu hai fatto. 28,7, 39,8. 39,8. Grosjean non dovrebbe darci problema. Ricciardo che sta facendo? Non è in pista, ah, giusto. Tu sei fuori. Hamilton non ci interessa. Perez è ancora... Verstappen, Verstappen ha messo le ultramorbide e si sta lanciando. Questo potrebbe essere pericoloso. Mancano 50 secondi. Avrò il tempo probabilmente di dirti cosa ha fatto nel primo settore. Ah no, se tu stai fuori riesco a vedere pure io. Si è lanciato ora, eh. No, aspetta, allora rallento qua. Si, va bene, c'hai ancora tanto spazio. Oddio, 19 secondi non ce la fai più a lanciarti. No. Dieci. Eh vabbè, allora vado di pausa. Eh allora non potremo sapere nulla. Farà tutto in una volta. No, no. Hai visto? Per... 20 millesimi. Su Ricciardo. Ah beh, sull'11 devi vedere. Eh, 20 millesimi so. Oh 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 oh. Mamma mia. E aspetta, 75, ti guarda gli altri. Oh, è roba che ho rischiato di arrivare... Tranquillamente tredicesimo, sì. Bottas, quattordicesimo. Boh no, ma non l'avevo visto. Grande, grande, grande Bottas. Dai, solo quattordecimi di ritardo da Hamilton, su Ultra. Allora, andiamo, andiamo. Mo... Mo' da esse, mo' da esse. E piove. Piove. No, no. Ok, le gomme sono quelle giuste. La benzina non l'avevo modificata. Usciamo. Ho guanti diversi per questa gara. Guanti diversi? Sì. Chi è che utilizza guanti diversi? Io. Ma, con il joystick? No, nel gioco. Come mai, cioè, i guanti diversi? Che cosa sono? No, ogni tanto capita. Sono più lisci. Dove potremmo farci vedere? Più lisci! Ci pensavo neri. Sarà tipo qualche... No, lo so un... Un bug. No, lo so un bug. È semplicemente. Hanno una... Il palmo è diverso. Quante dita c'è? Cazzi, quelle sono sempre quelle. Sono sempre sei. Sì, sì, sì. Allora non hanno migliorato. Se io ho una mano e quattro al lato. Una mano è così. E l'altra è così. No, uno sta montato sul palmo della mano. No, sul palmo. Ah, ah. Sul dorso della mano, sai. Esce fuori. Appeso, così, tipo... Dà fastidio pure all'aerodinamica. Quando c'è vento sta tutto tirato in alto. A bandiera. Ora è importantissimo in questo giro. Lo devo fare super forte. E ora si capisce dove parti. Primo, secondo, terzo. Dall'undicesimo al ventesimo si è già capito. Capito? Capito? Ehm? Oh, Glockard! Che cosa se vedi un piccio? Ehm? Ehm? Grazie. Dai, dai, dai. Quanti tentativi fai per turno, diciamo? Due per due. Grazie. Ok. Primo giro sbagliato. Primo giro sbagliato. Fantastico, hai registrato il miglior tempo. Rientro ai box. Ho danneggiato l'ala. Anche io però vado così. Ma comunque lo faccio un altro. Adesso, ho perso un po'. Tu vuoi rientrare, va, 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 va. Sei dieci. Chi sta davanti a me? Hamilton e Verstappen. Claudio sta davanti a me. Avanti, proprio terzo. La non leggi, scusi. La non leggi. Max Verstappen. Che peccato. Sto sbagliando sempre quella curva, ca. La non leggi. La non leggi. L'ala anteriore è ridotta davvero male. L'ho rotta nel rientro. Comunque, sono ai box. Quanto c'ho sul secondo? Ora vedrò. Il mio obiettivo è stato superato. Sono sceso sotto il 42. A 41 stai. 41 e 8. Ma, sei 44. 41 e 802. Prima hai fatto un 43 e 9 sbagliando, eh. Mettiti nelle prime quattro posizioni. Sei quarto per adesso, eh. Sei rientrato adesso, sì. Ma, sei rientrato giusto giusto. Hai avuto dei ritardi con i meccanici? Ora, il nostro miglior giro è 1,41,8. Allora, sono tutti in box. No, io cambio la gomma e esco tu. Tutti hanno fatto un giro. Comunque, abbiamo Perez, Grosjean, Kvyat, Sainz e... Ocon e Stroll. Cioè, tutti abbastanza scarsi, eh. Tutti stanno dietro di te almeno di due decimi. Monto la gomma e esco subito. Quindi, hai Hamilton e Verstappen da battere. E Verstappen ce l'hai già a quattro decimi. Le sei, no? Le sei, sì. Oppure io le monto adesso. Dopo che esci tu, esco pure io. In ora, il nostro miglior giro è 1 minuto, 44,9. Motore, siamo pronti. Motore, azione. Si, sembra come... Aspetto che esci. Vediamo. Ok, sei uscito, vero? Si. Sta uscendo. Quanto manca? 3,55? Si. Questa cazzo qua, mi c'è questo di paesi strani. Senza spazio per respirare. Invece abbiamo questo, cittadino, Messico. E non ne dovrebbero stare altri. Messico non piace neanche a me. Dobbiamo sfruttare il fatto di botta, assa. Si, questa volta assolutamente. Parte pure con l'ultrasoft. o no. Se non mi sbaglio, si. Eravamo gli unici. No, ma può decidere quello che gli pare. Eh, anche se è uscito. Quindi può decidere quello che vuoi. Si. Dai, almeno secondo, per favore. Quanto sta Hamilton? Da me? Eh... Stava a 3,4 decimi. Quindi pure lui sull'1,41? No, no. 1,42 è basso. Dai, dai. Oh, mi sa che non ci va faccio a fare due giri. Devo spassare la tribuna adesso. Io si. Sì. Sarà pelo a pelo, eh. 1,40 sono passato. No, non ci voltiamo ai un center ma un. Non ci dov'anni. No, oh, non ci vediamo lapersona! www.ac inputs. 30 secondi al termine della sessione ho sentito aspetta 7 decimi meglio non ce l'ho fatta ma per quanto lo devo vedere assolutamente 2 secondi più lento l'hai tagliato parecchio ma non ho recuperato 6 stavano 8 7 secondi ma almeno 1 seconda e 1 1 2 consolidiamo almeno il secondo posto no ho perso 3 10 ah parecchio perso parto secondo primo e vabbè se io stavo secondo è stato una riassirta io 1 40 41 e 0 mannaggia per 34 millesimi non ho abbattuto l'1 41 4 millesimi 34 beh avanziamo avevamo fatto 1 42 e 0 in prova a tempo abbiamo migliorato io di un secondo tu di 7 decimi ma quando l'hai fatto 1 41 e 3 no nell'ultimo giro si ah ti stavi migliorando allora si beh io non ho 15 giri abbiamo si non ho fatto il la simulazione per vedere quanto si consuma con la rossa vediamo un po' che dice meno 143 più 600 ho 7 o 8 vado io di 8 è uguale tu vai al 7 allora ok ok tu prima e io dopo 7 o 8 rispettiamo la la strategia che ci dice lui indietro no a me era 8 però si si pure a me voglio dire rispettiamo quello che ci dicono dai box quando siamo in gara non dovrebbero esserci problemi aspetta qua pensiamo prima di partire io dov'è che sto indietro sto all'esterno quindi tu che stai all'interno stai già bene lì dove stai possiamo vedere adesso nel warm up si 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 penso che dobbiamo rimanere così cerchiamo di fare un'ottima partenza e l'imbuto diciamo dovrebbe essere a nostro favore dovrebbe chiudergli la strada automaticamente a Hamilton che è dietro lo vedo negli specchietti è lui terzo ora proviamo la staccata vediamo dove dobbiamo andare a frenare dopo la partenza ok andiamo si fai già la partenza come se dovresti partire io freno sui 50 più o meno non è vista che prima della gara fanno questa cosa che rispondi così dai ancora 20 minuti e poi puoi giocare si ce la fai a giocare è inutile che ti metti col piccio ce la fai sono le 12 un secondo ce l'ho fatta è inutile che la temperatura buona è sui 750 anche qui lo stavo facendo sempre negli ultimi giri e mi scordo negli ultimi nelle ultime curve stavo riscontando non ho messo grasso no vabbè lo puoi fare prima di partire quando mette il folle comunque io se non mi sorpassano nessuno a sinistra penso che sto bene sì sì tu stai bene lì una volta che chiudi la traiettoria al terzo rischiano che ti sorpassano ti vengono a sbattere è pericoloso sto momento non voglio buttare una gara così ora cacchia di cosa emilton mi sta buttando fuori basta mi hanno fatto girare nooo ma vaffanculo chi è emilton ver sta appena emilton a post qualificato emilton sta dietro di me ok direi non sento come te quando mi ha la strategia non è mi rompo le palle così però mi ha visto mi ha visto i miei fulchi mostro è finita la gara temo che mi mettono le ultra soft metto le bianche metti le gialle pirco vai giù con le frecce pirco vai giù 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 gira a destra fino a quando arriva la gomma giù non mi sto fioffando però ti trovavi all'esterno e quando hai tagliato per chiudere la curva ti hanno preso non mi ricordo sono 8 secondi qua non so se emilton si è ritirato se no sta parte emilton ancora super soft ah si lui c'è vale ultra soft dici che arriva a fine gara non lo so può essere molto avrà tanto degrado la fine però può essere che arriva non lo so si ma non mi faccio soppassare piuttosto finiamo tutte e due la gara eh per ogni gara così eh per te le ultime tre sono state tutte così a spa vabbè abbiamo fatto sotto la pioggia dai monza pure monza ci è andata male si rientra i box in questo aggir buttiamo buttiamo fuori iscribile ma no non vi si non sappiamo qui no 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 Dai, vediamo Potevamo recuperare punti su Bottas Eh, perché non lo sai? No Non si è soffrando a giocare Hai registrato il miglior tempo, mi tiro così Allora, vedrai, direttore di là Va, Hamilton è venuto a sbattere con me e gli hanno dato l'avviso Nient'altro? No Poi gli hanno dato un altro avviso a Hamilton che ha collegato con me e mi ha fatto fare danno fatale Questo ha fatto il miglior giro a Hamilton Grazie a tutti Grazie a tutti E' a Monza e sono arrivato quinto dopo che sono andato nei box che ha cambiato l'ala Qua sto idiota Ma stenditi Mi ha detto tolita Bottas sta undicesimo Speriamo che non entra nella zona punti così Si accorcia un po' sto campionato Non estaba Ed è che il mi sono carico Non sto Confio Non Penso Non Non Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, punteremo come ultra morbide Tu, se tu metti la penna, lo stringi bene qua Pure così, largo largo va bene, ma tu forzi e mandi avanti, dove se ne deve scappare? Puoi fare Monza dopo, più semplice, eh, una difficile, ho questa L'acceleratore è freddo, ecco questa Non metti che parcheggini di salita, di situazione Comunque hai staccato assai Verstapp, non è entrato nei box No, no, l'ho staccato, avevo fatto pure un errore, mamma mia Hamilton continua a stare ultimo, botta sempre un dicesimo Verstapp, nessuno è entrato per ora Trovo il bastardo di me, ho detto Molto, taggo tutto il te Perché devi, devi Devi insultarlo così Che mi ha fatto uscire? Ho con il secondo Ma quello vero lo ho scritto Ah, è sempre lui, lo fanno apposa Ti hanno fatto proprio bene Vedi qua, Claudio ho condiviso questa cosa della gara Ora vado qua e scrivo Scritta una risposta Di... Hamilton Non c'è così, forse è solo la meta Hamilton Ora Hamilton si dispiacerà e ti reverà dalla lista dei suoi amici Inizio l'ottavo giro No, volevo dire una cosa Allora, nei box Hamilton ha superato Erickson Quindi sta diciottesimo Quindi continua a stare diciottesimo Nonostante Toast e box Cioè, Ricciardo ha tredici secondi Ricciardo monta le rosse come te Io mo sto facendo viola Sto facendo, eh Tutte i box In corso ci sono Tu, Ricciardo, Palmer, Alonso e Van Dorn Quattro soft e un ultra soft Ricciardo partiva dalla undicesima posizione, sì Eh sì E allora posso anche allungare la sosta su di lui Non fa niente Cioè, avevo già parecchio sul secondo Che è Verstappen Che molto probabilmente se mi dà fastidio lo elimino in questa gara Verstappen è entrato sesto Sta in pista sesto Lui mi dice box adesso Ma credo di allungare un giro Voglio riuscire prima Ti dico se vanno qualcun altro nel box Sì, questo mi dà comporto Quattordici secondi e nove C'ho su Ricciardo Continuo a guadagnare Ah beh, di continuare continuo Non puoi saperlo Finché non passano loro Ora ci saranno Quindici secondi di silenzio Dopo che passo io Ancora stai passando Spero che Ricciardo rientri adesso E se non rientra adesso tanto rientra Ibox Ibox Ok Palmer dovrebbe rientrare Ibox Ora Se diventa Verstappen secondo Alonso ibox Vandorno continua Sì ma c'ha parecchio di Verstappen sta dietro con Vandorno Ok Ora vediamo il ritardo su Vandorno Vantaggio Fuori lui è partito con rosse Allora Sì Zero stop Sì Bottas è decimo E penso che Vandorno Poi vada dietro Quindi andranno uno E Hamilton sta a 17 Oh che cazzo hai fatto? Finchia d'altro E Hamilton 17 Emanuele è entrato a vedere Non mi dice nulla qui Che senso è ormai Vuoi fare qua I? Per la norma Vandorno continua a girare Cazzo Ho perso un po' L'ultima curva Non la prendere subito Vabbè ormai è tanto Non è ancora Ah Mirko Visto Sono Quanto è dietro Verstappen a Vandorno? Eh no Ancora deve puntare A uscire dal rettilineo Ora è uscita dal rettilineo Basta Vai C'ho la leggermente rosa Come la raro La parte destra è arancione Non è gialla Quindi devo stare attento alle curve a sinistra Tutto sto rettilineo E' un po' di differenza No No Menta Oh Ce l'ho dietro Ce l'ho No Sta parecchio Chi è dietro di me Scusa Sì è Verstappen Però non è vicino Eh la madonna Sarà un secondo Sto anche un po' scosso Sì forse adesso si è avvicinato Sì Comunque anche un secondo posto Cioè non lottare se ti provo a superare Cioè Bottas ti prende un casino di punti A Bottas Bottas sta No no E' un po' scosso Bene ora mi concentro per la parte finale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Quattro secondi Ti dico io la distanza da Verstappen Ok 3 e 2 Stavi a 2 e 4 il giro primo Però qua mi sa che mi dice solo a giro Ma non è in per te 3 e 9 3 e 9 e 51 No no Ok Perfetto Che sai con la telecamera su di lui? Eh sì Ok Abbiamo carburante sufficienza per altri 5 giri Cosa c'è i mezzi che fa con errore ti dico Sbagliato 4 e 3 e 8 Sbagliato veloce, 44 e 9. 5 secondi. Voglio fare il grand celem. Cioè, quindi per dire, al secondo posto, gli stessi problemi che potresti avere a partire al decimo. Sì. Ti è andata male il fatto che dovevi lasciare la posizione su Hamilton? Sì, poi mi sono ritrovato quarto, però alla fine... Mi aveva già urtato, eh? Mi ha buttato fuori pista. E ho dovuto ridare la posizione. 6 e 3. Puoi andare pure al tipo di magra, eh? Sto adesso di grassa, sì. No, ti dico quanto. C'ho... Di serbatoio ancora. 6 e 5. Per ultimo. Per ultimo. C'ho ancora carburante per 3 giri. Più 1 e mezzo. Ne mancano meno di 2. Lascio così. E è 2. Perso 3 e 10. Bottas, 8. Hamilton, 15. 6 e 5 di nuovo. 6 e 5 di nuovo. Sei all'ultimo giro. Sei all'ultimo giro. 7 e 5 di nuovo. Stai su di me allora? Eh sì, l'ultimo giro Sì, è 8 Sta Il distacco dalla vettura dietro di te è 6,9 secondi No, iniziano a rovinarsi le gomme Perdi aderenza, no? Che allora sta facendo l'ultimo sgommato Sette secondi, sì, è 9 Quindi puoi andare tranquillo Aspetta Sette e 1,1,7 Sì, sto andando proprio piano adesso Per questo ti avevo detto metti magra Non rischi niente Tranquillo I fuochi dell'artificio ci sono Stanno i fuochi E ora Mirko può ammirare Bottas Mannaggia Bottas Il mio socio È da Bottas Meno 30 Ah sì, gli ho guadagnato 19 punti Sì No Io ho meno 40 punti Aspetta Boh Vabbè Perez sul podio Vabbè Settimo Ho preso 6 punti Sì, sì 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 Inveggio Inveggio è finito male L'ho superato comunque Sono io il secondo in classifica adesso Eh sì Meno 30 Meno 32 Meno 42 Vuoi fare una gara con Mirko? Ah sì Ah sì Facciamo che cosa? Siamo a meno 40 Nella Nella Classifica costruttori Qua finisco Aspetta Avanza Hai fatto avanza? Ehm Sono uscito Ti ha cresciato? Sì Ma che cacchio Vedremo Alla prossima Al prossimo aggiornamento Qua finisco la trasmissione Nel frattempo